Buongiorno, siamo in compagnia del professor Gasbarrini. Professore, è sempre un piacere come sempre incontrarla. Siamo al Policlinico Agostino Gemelli di Roma e parliamo di microbiota. Professore, abbiamo affrontato molte volte l'argomento del microbiota, questa volta affianchiamo al microbiota la parola tumori, perché molti studi recentemente, anche pubblicati su Science, mettono in relazione la composizione del microbiota con molte aspetti della neoplasia. Cominciamo a capire che cosa vuol dire questo legame. Il microbiota sta rivoluzionando la medicina moderna e questa parola microbiota revolution e in qualche modo esplica questo concetto, cioè le nostre conoscenze nuove sul microbiota intestinale, componente microbiologica, un microbioma intestinale, cioè il prodotto del microbiota, quali sono le sostanze che questi batteri, questi miceti, questi virus in qualche modo producono nel nostro organismo, o il metaboloma, e cioè come questa comunità microbiologica comunica con il nostro organismo e qual è il risultato del prodotto finale. Questi grandi concetti stanno proprio cambiando la medicina e l'hanno fatto in tante aree, si è cominciato dalle malattie infiammatorie, all'inizio nel mio mondo della gastroenterologia, il ruolo del microbiota nella colituccia rosa, nel morbo di Crohn, nello sviluppo della malattia celiaca, nella ipersensibilità al glutine, nel colon irritabile, nella gastrite, nell'ulcera, una malattia di verticolare, nelle esofagite, nelle afte che vengono in bocca, cioè veramente le aree più disparate della medicina, nella progressione della cirrhose epatica, la malattia di fegato, di pancreas. E dopo questo inizio si è provato a capire ma come questo microbiota intestinale poteva essere implicato nel mondo dell'oncologia e se ci poteva essere un ruolo. E come lei ha ben detto, quello che è successo negli ultimi 10 mesi, 12 mesi, e soprattutto negli ultimi due mesi è incredibile. E cioè stanno uscendo una serie di lavori pubblicati a livello più alto della medicina, calcolate che solo la rivista Science, che è una, diciamo, delle bibbie dei ricercatori, ha pubblicato sei lavori importantissimi negli ultimi due mesi, dedicando un'intera copertina alla rivista Science a questo, che hanno dimostrato che i nuovi immunomodulatori, cioè questi farmaci che in qualche modo, invece di attaccare direttamente i tumori, fanno sì che le nostre cellule immunologiche possano riconoscere il tumore e combatterlo. Questi nuovi immunomodulatori hanno bisogno di batteri particolari nell'intestino. Cioè se il microbiota non è composto in una particolare modalità, questi immunomodulatori non funzionano. Capite bene che questo sta cambiando tutto. Prima perché questi immunomodulatori, chiamati checkpoint inhibitor, sono il futuro e soprattutto la grande speranza per i malati oncologici. Cioè pazienti, pensiamo, dov'è che li hanno provati? Chiaramente all'inizio delle malattie oncologiche peggiori. Il melanoma, no? O i tumori del polmone, i tumori del pancreas, sono andati direttamente nelle malattie oncologiche dove non c'era una risposta della medicina tradizionale e hanno rivoluzionato la prognosi, no? Il melanoma che è passato da pochi mesi arriva ad anni, il tumore del polmone anche, del pancreas, cioè una vera e propria rivoluzione per i malati con queste malattie. Però cosa si è visto? Che non tutti rispondevano. Cioè non tutti quelli che facevano checkpoint inhibitor immunomodulatori avevano questa risposta sbalorditiva. E allora alla ricerca delle condizioni che potevano in qualche modo predire chi non rispondeva, che cosa si è visto? E questo hanno dimostrato questi lavori pubblicati su Science e su altre prestigiose riviste. Hanno visto che chi non rispondeva aveva una flora batterica, una comunità microbiologica, una biomassa intestinale diversa e nel particolare mancavano alcune specie batteriche. Rimettendo queste specie batteriche ritornava la risposta a questi immunomodulatori. Ma perché mai un battere dovrebbe funzionare in un complesso meccanismo come quello degli immunomodulatori? Perché la maggioranza delle cellule immunitarie risiede nell'apparato digerente e viene educata, e questo già lo sappiamo dai primi studi del microbiota, proprio da questi batteri. Cioè quando il bambino nasce, il bambino nasce e l'immunità non è ancora sviluppata. Comincia a nutrirsi il latte della madre, poi piano piano lo svezzamento. Questo cibo che entra nell'intestino in qualche modo fa sviluppare queste comunità batteriche, che peraltro il bambino spesso prende dal canale vaginale della madre, spesso li prende dall'adattamento, dalla bocca della madre, questa complessa comunità che si forma nei primi 2, 3, 4, 5 anni. Questa comunità microbiologica educa l'immunità e lo continua a fare tutta la vita. Quindi in qualche modo la composizione dei batteri ha un ruolo importante in che tipo di cellule abbiamo immunologiche. E si è visto che se mancano alcuni di questi batteri, il più studiato di tutti si chiama Ackermansia mucinifila, se mancano questi batteri si è visto che alcuni di questi immunoterapici non funzionano. C'è una fortissima predizione con delle curve di sopravvivenza veramente impressionanti. Rimettendo questi batteri nell'intestino dei pazienti che non rispondevano ai immunomodulatori e soprattutto in tutti i modelli animali dove hanno studiato questo tipo di ricerche, si è visto che gli immunomodulatori ricominciavano a funzionare. Perché questi batteri hanno un ruolo in qualche modo di educazione sulle cellule immunologiche che è fondamentale poi per far funzionare i checkpoint inhibitor. Sono una vera e propria interfaccia tra noi e il nostro sistema immunitario. E d'altronde questo non ci deve meravigliare perché uno dei grandi motivi per cui si studia il microbiota in colitulcerosa, morbo di Crohn, artrite reumatoide, psoriasi, tutte le malattie autoimmuni, perché si sa che il microbiota intestinale può andare a influenzare la risposta immunosoppressiva. Calcolate che un mondo diverso ora non è il contesto dell'oncologia ma poi l'immunità è implicata in quasi tutte le patologie dell'uomo che è l'artrite reumatoide. Si è visto che pazienti con artrite reumatoide di nuovo esordio, i cosiddetti new onset reumatoid arthritis, avevano spesso una comunità batterica particolare ricca di un battere che si chiama Prevotella copri e il nostro organismo se questo battere entra troppo è in grado in soggetti predisposti di produrre anticorpi anti Prevotella copri che cross reagiscono con antigeni della sinovia articolare. Quindi in qualche modo facendo ipotizzare che anche malattie come l'artrite reumatoide e vi sono anche studi sulla sclerosi multipla e sul morbo di Crohn e sulla colitulcerosa, sono in qualche modo malattie dove il sistema immunitario comincia a attaccare una comunità batterica e alcuni antigeni simili sono in alcuni tessuti del nostro organismo e d'altronde questo non ci deve stupire più di tanto perché noi con queste comunità batteriche conviviamo dall'inizio dell'uomo. Il microbiota intestinale sappiamo che è fondamentale per il meccanismo di risposta ad esempio al sistema immune ma produce sostanze metaboliche, produce nutrienti, produce vitamine, quindi è un organo a tutti gli effetti. È chiaro che se escono dati così forti che fanno capire per tanto che il microbiota e la sua composizione ha un ruolo fondamentale nella risposta agli immunoterapici è chiaro che a questo punto si aprono nuove frontiere. Le nuove frontiere cosa possono toccare? Innanzitutto noi sappiamo che questi immunoterapici costano moltissimo, è uno dei grandi problemi della sanità moderna. È chiaro che se io ho un farmaco che mi riesce a prolungare la sopravvivenza di un paziente con tumore del polmone mi viene da dire che tutti i pazienti con queste malattie vorranno accedere precocemente a questi farmaci ma hanno dei costi molto elevati. Quindi se io potessi predire i soggetti che risponderanno e non risponderanno potrei ad esempio oltre a evitare terapie fastidiosi ai pazienti se non efficaci potrei individuare quelli che appunto hanno una prognosi migliore o se no, e questa è la vera sfida, potrei andare a ridare le comunità batteriche che mancano a pazienti che non le hanno o prima di cominciare la terapia, meglio ancora, o in caso di fallimento andare a vedere se io li posso aiutare con un trapianto di microbiota in grado di ristabilire le comunità che mancano. Uno potrebbe dire ma perché io queste comunità batteriche non le ho attraverso l'uso dei probiotici? Purtroppo il problema, questo è un grande problema sul microbiota, che il microbiota intestinale è composto da numerose famiglie di batteri, poi hanno dei nomi tecnici, i fila, i generi, gli ordini, le famiglie, le specie, le subspecie, però nella realtà dei fatti, al di là del nome, molte di queste comunità batteriche non sono disponibili commercialmente, perché la maggioranza di questi batteri sono anaerobi estremi, molto difficili da produrre per le industrie che si occupano di microbiologia e di probiotici e pertanto non sono commerciali. Quindi se noi vogliamo andare a reinserire alcune di queste comunità, dobbiamo utilizzare metodiche diverse. Una delle più utilizzate, almeno in tutti gli studi di cui ho parlato prima, è il trapianto di microbiota. In un futuro è anche verosimile che noi trapianteremo delle biomasse particolari molto ricche in questi batteri, cioè nel futuro sicuramente il trapianto di microbiota passerà dal trapianto to cure del microbiota, come ad esempio avviene adesso nel costri di un difficile, dove noi andiamo a trapiantare una biomassa, non è importante la composizione, noi sappiamo che se mettiamo tantissimi batteri il costri di un difficile va via, viene mandato via da queste comunità batteriche. Però andando nel mondo dell'oncologia avremo bisogno di biomasse molto selezionate, quindi nel futuro il trapianto di microbiota dovrà spostarsi alla scelta specifica di che cosa trapiantare e in qualche modo, questo la trapiantologia ce l'ha sempre insegnato, pensiamo al rischio di rigetto di un trapianto d'organo sbagliato, pensate a quanto è importante nel mondo del midollo osseo trapiantare una biomassa di cellule perfettamente studiata per evitare il rigetto. Nel mondo del microbiota noi andremo a trapiantare delle biomasse con alcuni batteri molto molto arricchiti di alcuni batteri. In questo caso nel mondo dell'oncologia verosimilmente si studieranno batteri, come vi dicevo, con Ackermansia mucinifila o con fecalibacterium prausnizi, sono tutti dei nomi nuovi anche in medicina e sono nuovi che ci stanno emergendo da questi incredibili lavori. Un altro studio molto interessante è anche la comparazione del microbiota di persone sane e invece persone già ammalate di tumore. Che cosa emerge? È chiaro che noi abbiamo in qualche modo, ma spesso capita così in medicina, noi ci siamo arrivati dalla fine, abbiamo visto che chi non rispondeva all'immunoterapico aveva una composizione diversa e rimettendo quei batteri ritornava la risposta all'immunoterapico. Questa è la dimostrazione più forte di tutte. Quindi è chiaro che a questo punto negli anni sono viste anche altre cose e cioè la prima è, ma se io ho una biomassa batterica diversa, ho un rischio maggiore di sviluppare un tumore rispetto a un'altra persona? Se voi ci pensate è così in medicina. L'esempio più classico che si fa è quello dei tumori del colon. Noi sappiamo che i tumori del colon sono molto frequenti, soprattutto nel mondo occidentale, sono in questo momento in Italia direi overall la seconda, terza causa di neoplasia nell'uomo e nella donna, dopo diciamo il polmone per l'uomo e l'ovaio e il seno per la donna, però sono i tumori maggiormente prevalenti, praticamente non esistono modelli animali di tumore del colon in assenza di microbiota intestinale. Cioè il microbiota intestinale è cruciale per sviluppare i tumori del colon, ma anche per proteggerci dai tumori del colon. Allora si è provato a vedere, questo negli anni scorsi, se c'erano alcuni batteri che potevano in qualche modo aumentare il rischio di sviluppare i tumori del colon. E lì ci si è concentrati, ma molti di questi studi sono in corso, su alcuni batteri particolari. Ad esempio si è visto che vi è un batterio che si chiama Fusi Bacterium Nucleatum, che è un batterio che ha alcuni, diciamo, antigeni di tossicità, che è in grado di aumentare l'infiammazione e ad esempio di aumentare la progressione dell'adenoma in adenocarcinoma. Quindi in qualche modo è in grado di spingere l'infiammazione e la progressione di un tumore in corso. Ma chiaramente poi sappiamo che esistono altri batteri che hanno un'attività antinfiammatoria. Quindi non c'è dubbio che il microbiota ha un ruolo anche nella patogenesi e nel rischio. E ora nelle branche della medicina, la medicina anticipatoria o la medicina preventiva o la medicina predittiva, in tutte queste aree si sta studiando il microbiota per vedere se una biomassa particolare ci aumenta o ci riduce il rischio. Qual è la forza del microbiota e di tutte queste ricerche? Che il microbiota la possiamo considerare la componente variabile del genoma umano e in quanto variabile può essere cambiata. Come si può cambiare un microbiota? Beh, la modalità ottimale è la nutrizione, quello che noi mangiamo. Questi batteri in qualche modo crescono in accordo a quello che noi mangiamo. E guarda caso, come tutta la medicina poi rientra in qualche modo, quello che noi definiamo l'alimentazione ottimale, no? L'alimentazione ricca in verdura, ricca in legumi, ricca in fibre, è l'alimentazione che favorisce la crescita dei batteri con maggiori attività antinfiammatorie. Quindi in qualche modo quello che noi abbiamo sempre ritenuto l'alimentazione sana, d'accordo? I cereali integrali, no? È l'alimentazione che favorisce la crescita delle specie antinfiammatorie. E tutte le specie invece pro-infiammatorie utilizzano molte degli alimenti che noi consideriamo pericolosi da evitare o da ridurre o da mangiare in piccole quantità. Quindi veramente noi abbiamo uno straordinario momento, no? Per far crescere un buon microbiota, mangiare bene. Cioè mangiare bene, evitare le condizioni di rischio, evitare ad esempio accuratamente quando non sono indicate gli antibiotici. Cioè gli antibiotici hanno cambiato la storia della medicina, ci hanno fatto combattere le grandi epidemie, le grandi endemie, però e quindi assolutamente quando è necessario vanno usati e vanno usati con grande intelligenza al dosaggio giusto per la quantità giusta di giorni. Ma se non sono utili, se non sono necessari, non dobbiamo utilizzarli. Quante volte uno per una semplice influenza, no? Con un minimo di febbre, qualche linea di febbre che basterebbe che si mette a letto, aspetta qualche giorno, comincia subito un'antibiotico terapia. Magari è un virus, per cui l'antibiotico non fa nulla a questo virus, anzi magari lo potenzia di più perché si abbassano, torniamo al discorso di prima, no? Si abbassano alcuni batteri, si riduce la risposta immunitaria e tu sei a maggior rischio di progressione di un'infezione virale. Cioè questi sono i concetti di base. Ad esempio, non lo so, evitare l'alcol, soprattutto l'alcol in eccesso, danneggia al microbiota gastrico, danneggia al microbiota intestinale. E poi che questi batteri abbiano un ruolo fondamentale nelle malattie e nello sviluppo del tumore ce lo insegna l'esempio dell'elicobacter pylori. E l'elicobacter pylori, anche qui, i concetti del microbiota stanno anche cambiando le nostre conoscenze. Noi sappiamo che l'elicobacter pylori è un battere che è considerato un carcinogeno di classe prima, cioè si era visto che molti tumori dello stomaco erano strettamente associati alla presenza di questo battere ed erradicando il battere si riduceva la prevalenza dei tumori dello stomaco. Poi si è visto qualcosa di ancora più incredibile, che l'elicobacter pylori è in grado di determinare gastrite, lo stomaco in qualche modo si protegge e l'epitelio cambia, si realizza una metaplasia e poi un'atrofia gastrica. Su questa mucosa trofica arrivano altri batteri. E forse sono questi altri batteri che arrivano in una mucosa danneggiata che sviluppano il tumore. Quindi in qualche modo si è visto che le cascate dei tumori non è che sono mai lineari, sono una serie di comunità microbiche che parlano col nostro ospite e qualche volta il processo di riparazione impazzisce. Qualche cellula neoplastica poi riesce a propagarsi. Quindi si è visto pertanto quanto il microbiota è responsabile dei processi infiammatori che spesso precedono i tumori. L'altro esempio è quello del colangio carcinoma, il tumore delle vie biliari, che molto spesso viene in pazienti che hanno colangiti ricorrenti, che hanno malattie come la colangite sclerosante primitiva o altri danni delle vie biliari o tumori particolari del pancreas. Molto spesso l'infiammazione mediata dal microbiota precede lo sviluppo dei tumori. Però dobbiamo stare attenti, il concetto quindi è fondamentale, non è che tutti i batteri fanno male, assolutamente no. La maggioranza dei batteri che noi abbiamo qui dentro sono assolutamente positivi per l'organismo, hanno un potente effetto antinfiammatorio. Poi esistono degli studi ancora più complessi che in qualche modo ci dicono che il nostro microbiota noi lo prendiamo nei primi mesi, nei primi anni di vita, proprio perché l'immunità non è sviluppata. E questo ci fa capire quanto sarebbe importante agire su quel momento della vita di una persona. Noi dobbiamo essere veramente molto molto attenti, ad esempio nei bambini, negli infanti, a nutrirne nel modo migliore possibile, no. Il prediligere ad esempio il latte della madre, che ha tantissime sostanze in attività prebiotica che fanno crescere poi dei batteri intestinali positivi. E dato che quei batteri educano l'immunità, poi noi avremo un bel bilancio, no, di batteri pro e anti-infiammatori. A volte servono anche i pro-infiammatori, no, perché tu devi essere anche pronto a difenderti da un patogeno che sta arrivando attraverso il cibo, per cui servono anche quei batteri. Ma devo stare in un bilancio, cioè in quella che si chiama eubiosi intestinale. Professore, come sempre ci apre degli orizzonti straordinari della medicina e soprattutto delle ricadute sulla clinica e quindi sulla salute di tutti noi. Grazie mille e sicuramente ci aggiorneremo a breve perché le conoscenze sono sempre di più, quindi aspettiamo grandi novità dal microbiota. Devo dire che in questi anni la Microbiota Revolution è una saga che ogni mese ci lancia dei messaggi nuovi e ci fa conoscere cose nuove dal rapporto tra noi e l'ambiente. Grazie mille, alla prossima, buona giornata. Grazie a lei. Grazie.